Non abbiamo preso l'autostate, abbiamo venuto alla provinciale perché l'hanno può fare la capra, facciamo capra... Uè, uè, smontate il San Paolo, caricate seriamente, che ce ne ha? Partenza intellettuale. Paracalò? No, paracassino. E io voglio bevare acqua, acqua! Che acqua è così, questa è acqua fresca, naturale. Come è andato il viaggio? Una chiavaca. Una bella vacanza tutti insieme! Si è capito dove andiamo? Del posto che ti è sempre piaciuto. Che chat, chat? Chat now. Chat now. Ma dove chat vuoi? Favore scopata in dei libretti. Ah, il libretto della pensione. E lo sai che si promette con un bacio. Quale attività quale l'ha avuto fatta? Ma tu lo sai? Perché sono tornato da Roma. Lo posso andare? Quindi animazione è nato poco. Nonno! 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 Si sta ammazziamo potrebbe lontane. Non so faccio aspettare. Su! Si! Ricciaccato per truffa. Puoi mettere in manetta? Io leggo in mano. Su, andare all'edicolo a leggere gratis. Qui direttamente da Salve. Salve, ciao! Buone vacanze! Buona vuole! Buona guerra! Campbrar choke, иst Leben嗎? Grazie a tutti